E buongiorno a tutti ragazzi, io mi presento sono Chain, è il primissimo video che metto sul mio canale dedicato al vlogging e al qualche volta gaming. Oggi vorrei parlarvi delle mie telecamere e di quello che utilizzo, non è un kit fornitissimo per il momento perché non utilizzo attrezzature così sofisticate, sono tutte cose che ho accumulato nel tempo e quindi magari qualcosa potrebbe essere anche abbastanza vecchiotto. Tutto ciò che dirò è estremamente riassuntivo, quindi dirò veramente le basi di quello che sono, le mie attrezzature niente specifiche eccetera, vi metterò il link di tutte le mie attrezzature in descrizione, però dirò qualcosina giusto per far comprendere cosa si può utilizzare per cominciare a fare video su YouTube come faccio io. Quindi partiamo dalla prima fotocamera, Reflex, la mia Reflex, l'unica anche che possiedo. La prima fotocamera quindi che vi voglio far vedere, mostrare è la mia Canon 500D, una fotocamera Reflex entry level che viene venduta adesso su Amazon diciamo al prezzo di 350 euro, intorno ai 319, dai 319 ai 350 euro. È una camera veramente ma veramente resistente con una buonissima impugnatura in gomma che mi ha accompagnato veramente in tantissime foto e in tantissimi viaggi. Viene venduta con l'obiettivo basilare da 58 mm che va benissimo per cominciare. In seguito io ho acquistato l'obiettivo telescopico della Tamaron da 72 mm con anche stabilizzatore integrato, sono veramente obiettivi resistenti. Io ce li ho insieme alla macchina da circa 8 anni, quindi veramente sono tenuti come nuovi e io li ho utilizzati veramente tanto, io dico rendono moltissimo. La seconda fotocamera che vi voglio consigliare anche veramente a chi si approccia a questo mondo e chi ha la passione della fotografia come mi sto approcciando io e quindi come sto cercando di farmi strada in questo mondo è la Fujifilm Instax Mini 8. Mi è stata regalata al compleanno quindi non la sto usando da molto ma posso dire assolutamente che ne vale la pena, ho già eseguito più di 20 scatti tra cui quelli di prova, a parte il prezzo è molto contenuto della fotocamera in sé che varia dai 60 agli 80 euro ma le cartucce costano ben circa 1 euro a cartuccia quindi cioè 1 euro a fotografia, le cartucce quindi da 10 fotografie base, mini, nel formato mini costano 11 euro circa. La fotocamera è dotata di un esposimetro che rileva la luce e tramite un led posto sulla ghiera vi consiglia l'impostazione da utilizzare per le vostre fotografie. l'accensione è molto semplice, semplicemente bisogna premere questo tastino, l'obiettivo esce, non è regolabile, non è allungabile, accorsabile, è fisso l'obiettivo, il led si accende automaticamente e ora siamo in casa quindi rileva l'ambiente casa, io con la ghiera pongo l'indicatore sulla giusta impostazione e così potrò fare eseguire delle foto meno o più illuminate. E' presente inoltre un... ah, poi lo spegnimento è semplicissimo, basta chiudere. Il flash è sempre presente anche di giorno, un flash abbastanza potente che veramente illumina fino a una distanza di circa 3 metri e mezzo, circa tra i 3 metri e mezzo e i 4, però veramente il fuoco viene, diciamo, la messa a fuoco avviene, diciamo, entro dai 60 centimetri ai, non so, facciamo sempre 4-5 metri dopo, se non si è a condizioni di alta luminosità, la luce viene un po', diciamo, dissipata e obiettivi lontani a bassa luminosità vengono veramente iscuriti. Però, per una fotocamera a questo prezzo vale veramente tutti i soldi, va a batterie, vengono inserite in questo sportellino delle batterie stilo, semplicissime due batterie, quindi anche estremamente portatile, ne consuma veramente poca di batteria, questa è da 3 mesi che ce l'ho e la durata delle batterie non si è ancora esaurita, quindi spreca veramente poca energia. Inoltre viene fornita con un lazzo che io adesso non ho messo perché lo odio, anche se dovrei metterlo, un lazzo per attaccarla al polso e non rischiare di farla cadere. La prossima telecamera che voglio mostrarvi è una action cam famosissima di una marca altrettanto famosa, la GoPro Hero 2, veramente vecchia ma veramente resistente. Ovviamente i video che esegue sono a livello di quando è stata fatta, quindi non molto elevate le prestazioni sui 1080p, comunque funziona molto ma molto bene, io l'ho usata veramente tanto sfruttata, buttata, uccisa, mi è caduta perfino da un kart una volta, gli sono passati sopra kart e su kart, dura veramente tanto con il relativo case. Come attrezzo, diciamo, indispensabile per quando si viaggia e per quando si vuole veramente fare uso intensivo delle proprie telecamere e comunque dei propri telefoni, smartphone o comunque apparecchi elettronici è necessario un power bank. Il mio power bank è un power bank della Vompry da 10.000 mAh che io non ho ancora utilizzato tanto perché è nuovo, lo utilizzerò nei miei prossimi viaggi di cui presenterò il video anche sul canale e vi farò sapere la mia opinione. Nelle descrizioni c'era scritto che presenta una buona ricarica per diciamo 4 ricariche dello smartphone barra tablet e questo secondo me è veramente un oggetto da portare con voi nei vostri viaggi. Per chi invece vuole semplicemente fare filmati con lo smartphone perché ritiene che i filmati siano soddisfacenti già così come sono, io ho acquistato delle lenti aggiuntive per il telefono, una lente fisheye che veramente mi ha sorpreso per il prezzo di una decina di euro o poco più, presenta questo kit una lente super macro che veramente io l'ho testata, le foto che fa sono veramente ma veramente stupende e la lente fisheye con un obiettivo supplementare macro che l'uno senza l'altro non si può utilizzare. Vengono veramente ma veramente ampie e sono ottime diciamo per fare foto abbastanza originali quindi che vorrete differenziare un po' comunque se siete in viaggio e così veramente una panoramica fatta con questa lente viene veramente ma veramente bene. Un altro, diciamo l'ultimo perché mi sto dilungando veramente troppo, un altro attrezzo che io consiglio e che veramente secondo me è indispensabile, è utile per viaggi e comunque per eseguire i vostri video è questo selfie stick chiamato selfie stick della Homet però può essere utilizzato anche come hand grip per la GoPro specifico per GoPro a meno che non si abbia un adattatore perché l'aggancio base è quello della GoPro ha un buon grip grazie al manico in caociu e ha un'allungabilità non troppo elevata ma sufficiente per il fisheye della GoPro quindi con questo bastone potete fare video di sci o snowboard o comunque selfie veramente ma veramente belli il bloccaggio è semplicissimo, basta girare il bastone e si può richiudere quando viene aperto lo si gira dall'altro lato, viene chiuso grazie alla forma particolare del bastone niente di difficile da utilizzare, inoltre viene fornito con il laccetto per attaccarlo al polso per non perderlo che veramente è utile e non c'è veramente nulla da aggiungere a queste attrezzature i case che io utilizzo con il design eccetera ve li porterò in un altro video dato che veramente mi sto accorgendo di dilungarmi troppo quindi ragazzi se vi è piaciuto il video mettete like e condividete e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao